andiamo via, apro e spingo, ah larghissima colpa mia ho sbagliato la grande, va bene va bene scusali io, cosa ho detto? sei? andiamo vai andiamo Ale, vai, apro e spingo, eri già per terra, aspetta, aspetta Ale, la palla che comanda, se arriva in ritardo tu aspetti via, andiamo, bravo, riprendela, riprendela, non è finita, bravo vieni, portalo, portalo il pallone, lo metti giù, vai, andiamo, apro, bravissimo, arriva a attaccarla, non è fuori pallone lo porti dietro, dai Ale, vai, va bene, non è finita è il terzo questo? quello che facciamo è il terzo? via bravo Lio, ragazzi la palla portate, non voglio che mi abbattete il telefono, ve l'ho appena riparato via, va bene, attaccarla via va bene Ale, portala la palla, quando fai Ale, il giro di qua devi fare no, bisogna stare svegli ragazzi, dai, forza, via va bene, va bene via, passettini, passettini, andiamo, larga eh, facci lo stesso, se la guardi non la pari andiamo, via dai, dai Ale, bene, Ale, 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 Ascolta, una mano dietro e una mano sopra sulle parate della soterra, eh era il quinto? era il quinto o il quarto? il quarto, il quarto dobbiamo fare il quinto? ok è male, andiamo, vai vai dai Ale, concentrato, eh, andiamo va bene, vai Ale porta il pallone grazie a tutti